Barbara Cinque, direttore artistico di Roseto Opera Prima, vogliamo un attimo parlare dei personaggi che saranno ospiti a Roseto in questa settimana. Allora, iniziamo domenica con la madrina che è Maria Grazia Cucinotta, ma è una madrina scelta apposta perché lei dal 2006 ha una sua casa di produzione cinematografica che è la Dreams Production e lei punta sui giovani registi esordienti, quindi l'abbiamo invitata anche per questo e domenica proietteremo anche due trailer di due suoi film. Il lunedì invece 14 puntiamo su un nuovo regista esordiente che è Fabio Mollo e puntiamo anche sulla distribuzione indipendente perché sia nel suo caso che nel caso di Spaghetti Story che proietteremo mercoledì si punta soprattutto su questo, sulla piccola distribuzione perché se il cinema deve rinascere, può rinascere solo da questo, sulla distribuzione indipendente. Zoran, la proiezione di Zoran, dal regista Matteo Leotto che non potrà essere con noi ma sicuramente se dovesse vincere la Rosa d'Oro ha detto che farà di tutto per partecipare. Venerdì abbiamo un altro regista esordiente che è Michele Picchi con il diario di Un Maniaco per Bene e interpretato da Giorgio Pasotti. Per chiudere poi con l'omaggio a Tonino Valeri che è comunque l'ideatore di questo festival e con la premiazione il sabato 19.